L'esperienza positivissima, diciamo, sento che sono andato in profondità, diciamo, appunto, in un livello di coscienza molto profondo, fino a che poi, non lo so se sarà stato un riflesso nervoso o non so che cosa, ho sentito, diciamo, uno scossone a livello di schiena proprio. Non so, magari mi sarebbe venuto anche in macchina, per dire, ma riporto semplicemente quello che ho avvertito dal punto di vista fisico.